Non so proprio come fare. Non so proprio come fare per ringraziare il mio Signore. Ci ha dato i cieli da guardare e tanta gioia dentro il cuore. Ci ha dato i cieli da guardare, lui ci ha dato la bocca per cantare, lui ci ha dato il mondo per amar. E tanta gioia dentro al cuore, e tanta gioia dentro al cuore. Si è chinato su di noi, ed è disceso giù dal ciel, per abitare in mezzo a noi, e per salvare tutti noi. Lui ci ha dato i cieli da guardare, lui ci ha dato la bocca per cantare, lui ci ha dato il mondo per amar. E tanta gioia dentro al cuore, e tanta gioia dentro al cuore. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Qui la luce ha disperso le tenebre, la luce che viene dal cielo, la luce che viene da Dio e riveste Maria. Qui la luce illumina anche noi. Lasciamoci illuminare dalla luce portata dalla donna vestita di sole, Cristo Gesù. Chiediamo che disperda le tenebre del cuore, e illumini la nostra anima con la verità e la carità. Riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, semprevergine Maria, gli angeli, i santi, e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, e ci conduca alla vita eterna. Amen. Chirie Eleison Christe Eleison Chirie Eleison Gloria a Dio nell'alto dei cieli E pace in terra agli uomini amati dal Signore Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo Ti rendiamo grazie per la Tua gloria immensa Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente Signore, Figlio, Unigenito Gesù Cristo Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen Preghiamo Signore nostro Dio Che ci hai dato la madre del Tuo Figlio, quale nostra madre Concedici, te lo chiediamo, che seguendo i Suoi insegnamenti e ripieni dello Spirito di vera penitenza e preghiera contribuiamo generosamente affinché il mondo si rinnovi e si espanda il Regno di Cristo Che è Dio e viva regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli Amén Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo Io, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c'era più Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo Udì allora una voce potente che usciva dal trono Ecco la dimora di Dio con gli uomini Egli dimorerà tra di loro ed essi saranno suo popolo ed egli sarà il Dio con loro E tergerà ogni lacrima dai loro occhi Non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno Perché le cose di prima sono passate E colui che sedeva sul trono disse Ecco, io faccio nuove tutte le cose Parola di Dio E la parola di Dio Ripetiamo insieme Tu sei l'onore del nostro popolo Tu sei l'onore del nostro popolo Benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio Altissimo Più di tutte le donne E benedetto è il Signore Dio Che ha creato il cielo e la terra Tu sei l'onore del nostro popolo Il coraggio che ti ha sostenuta non cadrà dal cuore degli uomini Essi ricorderanno per sempre la potenza del Signore Tu sei l'onore del nostro popolo Alleluia Beata sei tu, Vergine Maria E degna di ogni lode Da te è nato il sole di giustizia Cristo nostro Dio Alleluia Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quell'ora stavano presso la croce di Gesù, sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre, Donna, ecco il tuo figlio. Poi disse al discepolo, ecco la tua madre. E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Parola del Signore. Fratelli carissimi, innanzitutto insieme con voi e per voi si innalza da quest'altare un rendimento di grazie. Un grazie profondo dal cuore alla Vergine Santissima. Non solo perché noi siamo qui, ma soprattutto perché lei è stata ed è qui. Lei è scesa dal cielo, è venuta dal cielo per incontrare la nostra umanità. Lei che è parte di questa umanità, ma è anche pienamente parte del cielo. E così, attraverso di lei, anche noi, possiamo appartenere al cielo. E qui veniamo rivestiti di luce di cielo. Abbiamo ascoltato le parole del Vangelo, dove Gesù dice al discepolo, ecco la tua madre. Si parla di madre. Dove c'è madre, c'è famiglia. Dove c'è famiglia, c'è comunità. Ed è qui, mentre Gesù era innalzato sulla croce e Maria stava presso la croce, che nasce la Chiesa, la comunità di Gesù. Ed è qui che ancora una volta noi abbiamo la possibilità di stare come Maria presso la croce di Gesù, di essere accolti dalla madre, di essere figli, di essere Chiesa di Dio, di essere la comunità di Gesù. Ma qui anche la Madonna ha convocato i bambini e convoca tutti noi per dirci, per chiederci, per vocarci. Volete offrirvi, anche voi, anche noi. Oggi vogliamo dire alla Madonna il nostro sì, il nostro eccomi, il nostro esserci, non solo fisicamente, ma la nostra totale disponibilità sul suo esempio. vogliamo dire insieme con Maria al Padre ecco io sono qui per compiere la Tua volontà. Qui a Fatima la Madonna ci chiede non soltanto di rivestirci di luce, ma di diventare portatori di luce nel mondo, di collaborare totalmente con pienezza di cuore all'edificazione del Regno di Dio sulla Terra. Ci chiede la Vergine Santissima di santificarci e di santificare. È qui che si va verso il cielo, è qui che si dà all'umanità il vero traguardo che è il Regno di Dio. chiediamo allo Spirito Santo che plasmi i nostri cuori e li renda terreno accogliente perché la parola di Dio in noi si faccia carne e perché noi possiamo dare una piena e totale adesione secondo le parole della Vergine fate quello che Lui vi dirà. è il Regno di Dio in questo luogo santo dove la Vergine Santissima apparve preghiamo, fratelli, Dio nostro Padre che ci ha dato per madre la genitrice del suo figlio. Preghiamo insieme dicendo Ascoltaci, oh Signore. Ascoltaci, oh Signore. Per tutti i credenti affinché seguendo gli insegnamenti di Maria con spirito di vera penitenza e preghiera collaborino generosamente per il rinnovamento del mondo e l'espansione del Regno di Cristo preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per quanti esercitano un ministero nella Chiesa affinché in comunione di fede con Maria ascoltino, amino e annuncino la parola di Dio con fedeltà e zelo preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per i governanti affinché promuovono nel mondo la giustizia e la pace e collaborino per una giusta distribuzione dei beni sulla terra preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per tutti coloro che soffrono affinché in comunione con Maria consolatrice degli afflitti incontrino nell'amicizia e nella contemplazione della croce la forza per camminare all'incontro della vita preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per questa assemblea per le nostre famiglie e per quanti si sono raccomandati alle nostre preghiere affinché per l'intercessione di Maria coloro che cercano Cristo l'incontrino e i peccatori si confertano e i giovani si entusiasmino per il Vangelo preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per tutti noi perché prendiamo con assiduità e coraggio il cammino della sinodalità nella Chiesa preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. qui, fratelli carissimi i tre bambini sono stati scelti hanno ricevuto una missione e hanno risposto con gioia alla chiamata di Dio attraverso la Vergine Santissima con loro per mezzo di loro abbiamo conosciuto più profondamente il mistero di Maria e il mistero di Cristo vogliamo qui lodare e ringraziare il Signore per tutti coloro che fin da bambini ci hanno fatto conoscere il mistero di Maria e di Cristo e così ci hanno trasmesso la fede ci hanno rivestiti di luce chiediamo alla Vergine Santa che anche noi possiamo essere trasmettitori della luce di Cristo a tutti coloro che incontreremo per questo preghiamo ascoltaci oh Signore Dio di bontà infinita che ascolti le suppliche del tuo popolo per intercessione di Maria madre del tuo figlio e della Chiesa ascolta la nostra preghiera e rafforza la nostra fede per Cristo nostro Signore il canto Se m'accogli numero 89 tra le mani non ho niente spero che mi accoglierai chiedo solo di restare accanto a te sono ricco solamente dell'amore che mi dai e per quelli che non l'hanno avuto mai se m'accogli mio Signore altro non ti chiederò e per sempre la tua strada la mia strada resterà nella gioia e nel dolore fino a quando tu vorrai con la mano nella tua camminerò io ti prego con il cuore so che tu mi ascolterai rendi forte la mia fede più che mai tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu stai con i miei fratelli incontro a te verrò se mi accogli mio Signore altro non ti chiederò e per sempre la tua strada la mia strada resterà nella gioia e nel dolore fino a quando tu vorrai con la mano nella tua camminerò pregate fratelli e sorelle perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente celebrando la festa della Beata Vergine Maria noi ti offriamo Signore questo sacrificio di riconciliazione e di lode umilmente ti preghiamo di perdonare nella tua misericordia i nostri peccati e di orientare a te i nostri cuori per Cristo nostro Signore Amén il Signore sia con voi e con il tuo Spirito in alto i nostri cuori sono le vostre al Signore rendiamo grazie al Signore nostro Dio e con la sua buona e giusta è veramente giusto renderti grazie è bello esaltare il tuo nome Padre Santo Dio Onnipotente ed Eterno noi ti lodiamo ti benediciamo ti glorifichiamo nella memoria della Beata Vergine Maria all'annunzio dell'Angelo accolse nel cuore immacolato il tuo verbo e meritò di concepirlo nel grembo virginale divenendo madre del suo creatore segnò gli inizi della Chiesa ai piedi della croce per il testamento d'amore del tuo figlio estese la sua maternità a tutti gli uomini generati dalla morte di Cristo per una vita che non avrà mai fine immagine e modello della Chiesa orante si unì alla preghiera degli Apostoli nell'attesa dello Spirito Santo assunta alla gloria del cielo accompagna con materno amore la Chiesa e la protegge nel cammino verso la Patria fino al giorno glorioso del Signore e noi uniti agli angeli e ai santi cantiamo con gioia l'inno della tua lode Santo 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 il Signore Dio dell'universo i cieli e la terra sono pieni dell'acqua gloria osanna 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 nell'alto dei cieli osanna 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 nell'alto dei cieli benedetto colui che viene nel nome del Signore osanna 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 nell'alto dei cieli osanna 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 nell'alto dei cieli Padre veramente Santo fonte di ogni santità santifica questi doni con la rugiada del tuo spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo Egli consegnando si liberamente alla passione prese il pane rese grazie lo spezzò lo diede ai suoi discepoli e disse prendete e mangiateni tutti questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi la passione Grazie a tutti. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse, Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, o Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendi la perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo José e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia, donaci di avere parti alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Immacolata e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, i Santi Francesco e Giacinta e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ammettili a tutti i secoli. Ammettili a tutti i secoli. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. In Cristo Gesù datevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla Tua mensa, ma di soltanto una parola, ed io sarò salvato. Ci accostiamo alla Santa Eucaristia con il canto Il Signore è la mia salvezza. Il numero 42 Cantiamo dalla seconda strofa in poi. Il Signore è la mia salvezza, e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza. La salvezza è qui con me. Verrete con gioia alle fonti, alle fonti della salvezza. E quel giorno voi direte, lo date il Signore, invocate il suo nome. Il Signore è la mia salvezza, e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza. La salvezza è qui con me. Fate conoscere ai popoli tutto quello che Lui ha compiuto, e ricordino per sempre, ricordino sempre che il suo nome è grande. Il Signore è la mia salvezza, e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza. La salvezza è qui con me. Cantate a chi ha fatto grandezze, e si ha fatto sapere nel mondo. Grida forte la tua gioia. Grida forte la tua gioia, abitante di Sion, perché è grande con te il Signore. Il Signore è la mia salvezza, e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza. La salvezza è qui con me. Bene. this Grazie. 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 Preghiamo. Concedi, o Signore, il sacramento che abbiamo ricevuto. Guidi noi, che veneriamo la Vergine Maria, quale Madre del Tuo Figlio e della Chiesa, alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gli oggetti religiosi che avete portato con voi sono espressione della vostra fede. Servono a richiamare l'amore di Dio e ad accrescere la fiducia nella Beata Vergine Maria e nei Santi. Mentre invochiamo con il loro aiuto la benedizione del Signore su questi segni, non dimentichiamo che è soprattutto da noi che il Signore attende una coerente testimonianza di vita. Preghiamo. Signore, ti chiediamo di benedire questi oggetti religiosi, affinché per intercessione della gloriosa Vergine Maria e dei Santi Francesco e Giacinta Marto diventino segno di salvezza per tutti coloro che ne fanno uso. Per Cristo nostro Signore. E adesso riceviamo la santa benedizione per intercessione della Vergine Santissima, perché noi tutti possiamo rinnovare il nostro sì alla chiamata del Signore ed essere portatori di verità e di carità, della verità e della carità che è Dio nei nostri cuori a tutti. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Per intercessione della Beatissima Vergine Maria e dei Santi Giacinta e Francesco Marto, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Magnificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Il 13 maggio apparte Maria, a tre pastorelli in covaliria. Ave, 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 ave Maria. In mano un rosario portava Maria, che in mano un rosario portava Maria, che a dita i fedeli del cielo la via. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Madonna di Fatima, la stella sei tu, che al cielo ci guidi, ci guidi a Gesù. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Grazie a tutti.